Una strana calma è calata su New York. Pare che sia stato lanciato dalla torre della Oscorp un antidoto spray che sembra aver contrastato le biotossine. Il dottor Curtis Connors è stato preso in custodia dopo che il suo attacco bioterroristico è stato sventato dalle autorità. I residenti di Manhattan Sud possono stare tranquilli, sapendo che il presunto ideatore di questo complotto terroristico, il dottor Curtis Connors, è dietro le sbarre. Ciao. Il nostro inviato sul luogo, giornale, per un aggiornamento da mattina. Donnie. Il nostro inviato sul luogo, giornale, per un aggiornamento da mattina. Il nostro inviato sul luogo, giornale, per un aggiornamento da mattina. Va tutto bene. Va tutto bene. Va tutto bene. Non ti adagio. Andrà tutto bene, vedrai. Il nostro inviato sul luogo, giornale, per un aggiornamento da mattina. Il nostro inviato sul luogo, giornale, per un aggiornamento da mattina. Dov'è rifinito? Ciao. Mio padre è morto. C'è stato un funerale, con spari di fucile e poi tanti discorsi. sono venuti due dei miei insegnanti e persino Flash. c'erano tutti, tranne te. Io non posso farlo, non posso farlo. Mi dispiace, non posso, non posso. Ma che dici? Che non posso vederti più. È così. Te l'ha fatto promettere, vero? Di stare lontano da me, per la mia sicurezza. E' la mia sicurezza. Grazie.